Fala un giro, eh? questa la vendiamo farla girare bravo farò 2,70 se vuoi te lo do in mano no questa qua e quella da 5 mi interessa quella da 80 quello il prezzo che ha visto normalmente è 3,50 quella da a partire quella da 50 cm va bene Emiliano che la svegliamo in questi due di guarda la vista di 80 quella da 80 cm va bene 3,50 però 3,30 se vuoi 3,20 euro 3,20 come che le devo contare anche io 3,20 3,20 non dovete se la prendi faccio 300 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 4,20 4,20 5,20